Eccolo lì! Puttana che cartella! Che è uscito? Che è il capello questo? Che botta! Andiamo a spingerlo? Aspetta, va che vuoi giusti qua te eh? Che è uscito? No, 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 no! Turbo diesel Ehi! Sinistra 4 e destra 3, destra 3 per sinistra 4 e destra 5, sinistra 4 e destra 5, 100 alla casa, sinistra 3 e subito destra 3, Pela! 50 in versione sinistra, occhio Carlino, non fare il freno a mano, 50 in versione sinistra, 70 a destra 2, 2 tempi, apre vai! 2 tempi, apre vai! Ehi! Boh, fine! Cio, 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 adesso, che arrivano quelli là, che ci picchiano una botta! Alle Zebra e sinistra 2, per destra 3 e sinistra 3, per destra 3, sinistra 4, 50 alla cappella in versione destra. Vada! No! Lei, hai visto come ci fa? 3 meno e chiude, e sinistra 3 meno chiude, al palo a destra 3 più, è piena questa qua, in, al cartello a sinistra 3 più, ed è piena anche questa, subito sinistra e destra 2 meno meno su Ponte, due volte, 2 meno meno Gabri! Buona! Subito destra 2 meno, chiude molto, occhio interno, chiude molto occhio interno, in, ritarda, tornante sinistra, mosso, il cartello apre, ritardalo, eh! Subito, destra 3, no, no, non va più? Prova a scendere! no vabbè Gabri aspetta vai indietro che si entra in terra qua no vabbè mi metto forno faccio sto in là facendo sinistro alle piante compressione sinistra 4 e subito destra 2 lunga lunga chiude dopo destra 2 lunga lunga chiude dopo e subito tornante sinistro vieni vai tornante sinistro 40 alla cappelletta sinistra 4 chiude 3 dopo chiude 3 dopo al re il tornante no 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 c'è tutto ancora vai 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 ok tornante destra no 50 destra 3 lunga lunga lungo apre in destra 2 attenzione molto mossa 50 mostri mossi e destra 5 e frena accenno sinistro per subito tornante destra lungo chiude chiude eh ricordati che questo chiudono tutti e due anche quello dopo tornante sinistro chiude ok via adesso chiude eh in destra 3 oh no no ma no ma sinistra 5 in destra 5 in sinistra 5 destra 5 taglia 20 sale e alla roccia destra 5 non tagliare sinistra 5 alle piante destra 4 lunga si 20 20 20 sinistra 4 lunga 20 taglia 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 eccelera 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 è meno lunga è meno lunga apre in fondo e subito tieni tieni sinistra 5 corta 20 e attento attento sinistra 4 più sconnessa in sinistra 4 in sinistra 5 20 alle piante sinistra 4 per destra 3 taglia per sinistra 3 taglia per tornante destro 20 sinistra 3 lunga lunga stop buona fine numero grandissimo tornante sinistro 50 sinistra destra 50 sinistra tornante destro destra sinistra doppia chiude rail attenzione rail 100 sinistra destra lieve 50 destra chiude attenzione rail attenzione Sinistra 4 e destra 3, in sinistra 5, 70, sinistra 3 e destra 3, 30, sinistra 5, 80, destra 2, 80, destra 2, per sinistra 3, peda il sasso, 30, destra 2, apre vai, destra 2, apre vai, in sinistra e destra 4, occhio, tornante, sinistro, secco, tornante, sinistro, secco, destra 4, frena, in destra 3, meno doppia, 3, meno doppia, in sinistra 3, più tieni, per destra, frena, subito tornantino sinistro, ritarda, 50, tornantino destro nascosto, nascosto, sinistra 3, più, in destra 3, in sinistra 3, più, abbiamo bucato, abbiamo bucato, Ricky, stiamo prendendo fuoco, Ricky c'è il fuoco, c'è il fuoco, Ricky c'è il fuoco, giù della macchina, giù della macchina. Ibranzeciabile! Ibranzeciabile! Sfiora e salta al bosso, per destra 3, meno chiude, non tagliare umida, 3, meno chiude, non tagliare umida, per accenno sinistro, 50, al cartello sinistra 3, chiude, 100 sconnesso, sinistra 5, per moltissima attenzione, stacca il cartello in versione destra, scalino, in sinistra 1, si scivola, occhio, bene, stanza. Spengli lì. Eh, adesso come facciamo lì? Eh. Eh, tranquillo, tranquillo. Eh. Tranquillo. Eh. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.